buongiorno raga ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video alexy panturon non stecca nella combinata alpina arriva il successo del francese probabilmente nella sua gara per eccellenza in una combinata e comunque sicuramente lascerà degli strascichi sicuramente lascerà delle polemiche soprattutto per una tracciatura ridicola a mio avviso ma anche avviso sicuramente di qualcun altro per la masce di slalom ma soprattutto delle condizioni proibitive che di fatto hanno scritto il podio sin dall'inizio tagliando completamente fuori dalla corsa alle medaglie tutti i discesisti questo probabilmente è stata la principale trama del di questa combinata con panturon si bravo che la vince però veramente senza avversari adalina probabilmente la sorpresa partita con il primo vettorale nella seconda mancia riesce a cogliere un secondo posto però anche quello ragazzi c'è adalina perché è arrivato secondo perché è partito per primo e ci aveva la pista liscia però via via andando avanti per esempio arrivando al al pettorale 16 al pettorale 14 quello di riccardo tonetti e comunque anche lui uno slalomista misto gigantista che era andato forte in discesa paradossalmente tonetti era svantaggiato rispetto agli altri perché aveva la pista più rovinata di uno che partiva con il pettorale prima quindi paradossalmente tonetti che è arrivato quarto alla fine della combinata grandissima prova secondo me di tonetti e poteva fare veramente difficilmente di più alla fine per quello che per quello che ha dimostrato comunque essere la pista quindi poteva fare veramente poco di più secondo me tonetti e già ha fatto veramente tanto con con la pista rovinata a quel modo paradossalmente se tonetti fosse andato più piano in discesa fosse partito che ne so quindi il quinto con il sesto pettorale ci sta che tonetti sarebbe arrivato sul podio paradossalmente perché avesse la via perché aveva la pista avrebbe avuto la pista comunque più liscia messa meglio e con meno segni meno rovinata di chi magari parte appunto con i pettorali più alti terzo schwarz terzo schwarz ecco lì anch'io non capisco cioè un tonetti non è non vale più di un adalin in slalom un schwarz non vale più di adalin in slalom alla fine schwarz ragazzi quest'anno ha fatto due prime match in cui era il primo posto e poi un luca erni non è più forte di un adalin in slalom insomma io vorrei questi quesiti a chi ho organizzato questa questa combinata perché veramente è uno spettacolo sempre più obrobrioso perché i discesisti praticamente hanno preso tutti tre secondi chi è andato meglio ne ha presi due e mezzo e alla fine paris che aveva che era primo dopo la prima manche dopo la discesa che cosa ha fatto è arrivato nono ha preso anche lui tre secondi ed è stato uno dei migliori discesisti uno che ha limitato più i danni rispetto a quegli altri però ragazzi veramente non esiste non esiste il fatto che si tagli fuori dei scesisti dal dalla combinata perché se è combinata se è discesa più slalom tutti dovrebbero essere in competizione per arrivare a una medaglia invece molto spesso sono soltanto gli salomisti poi se agli salomisti dai una pista messa perfettamente e agli ai discesisti dai una pista invece completamente rovinata già i discesisti partano con un handicap grosso come una casa perché rispetto a una salomista normale c'è un discesista parte cinque volte sfavorita rispetto a uno slalomista di professione poi se gli dai anche la pista è rovinata cioè gli dai un doppio svantaggio e allora a quel punto nelle prime dieci posizioni vedrai soltanto slalomisti c'è uno spettacolo veramente misero perché gli ultimi 15 vettorali che erano tutti discesisti praticamente tutti fotocopia tutti che hanno preso le secondi e tutti che si insediavano intorno alla quindicesima posizione quindi veramente complimenti complimenti a panturo complimenti adalin che ha lasciato bene complimenti a tonetti che è arrivato quarta complimenti a svarza che è arrivato terzo però veramente in questa combinata non mi piace non mi piace spero che la riformino prima o poi e che e che cerchino di renderla migliore perché qua veramente lo spettacolo è sempre più misero e soprattutto vincono sempre gli slalomisti veramente le gare sono sempre più a senso unico e soprattutto questo questo schifo perché è stato uno schifo oggi è stato veramente uno schifo vale una medaglia mondiale e vale anche una medaglia olimpica al pari delle altre discipline quindi questo dovrebbe invitare a riflettere anche coloro che organizzano nella combinata fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate lasciate una valanga di mi piace al video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto comunque sempre forza agli italiani a questo punto arrivederci ragazzi al prossimo video